Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Altra lezione in esterna, come potete vedere questa volta sono nella sede di Inarte di Bellaria. Avevo bisogno di una lavagna per spiegarvi un po' di concetti e mi sono beccato quest'aula dove fanno la propedeutica, bellissima, con l'arcobaleno praticamente sopra la mia testa. Speriamo che sia di buon auspicio. La lezione di oggi serve a distinguere quali sono gli accordi che si generano praticamente, se io li prendo in forma di triade e in forma di quadriade. Che cosa vuol dire? Facciamo un esempio pratico. Dividiamo la lavagna in due. Mettiamo le triadi da un lato e le quadriadi da un altro. Triadi fu accordo composto da tre note. Dato una tonalità maggiore, quindi parliamo di un'armonizzazione maggiore, quando parliamo di triadi io avrò sempre degli accordi maggiori, quindi maggiori, sul primo, sul quarto grado e sul quinto. Quindi su questi tre gradi della scala io avrò praticamente un accordo sempre maggiore. Avrò invece un accordo minore sul secondo grado, sul terzo grado e sul sesto. Avrò invece un accordo diminuito sul settimo grado. Perché diminuito e non semidiminuito? Ci tengo subito a farla questa precisazione. Perché quando parliamo di semidiminuito facciamo riferimento al settimo grado e rientriamo nella famiglia delle quadriadi, non delle triadi. Quindi quando parliamo di triadi comunque si fa riferimento alla triade diminuita, perché in questo caso primo grado, terza bemolle e quinta bemolle. Quindi due terze minore che mi generano appunto la triade diminuita. Quindi nella sezione delle triadi non avendo il settimo grado, il settimo grado della scala si presenta come diminuito. Ok? Faccio un breve riepilogo. Quando parliamo di armonizzazione di una scala e prendiamo in considerazione le triadi, i gradi, gli accordi che si generano su questa armonizzazione saranno sempre di tre tipi. Maggiore, minore e diminuito. maggiore lavorò sul primo, sul quarto e sul quinto grado, minore sul secondo, sul terzo e sul sesto, diminuito sul settimo. Passiamo invece alle quadriadi. Noteremo subito che lo sviluppo e quindi l'armonizzazione e quindi gli accordi relativi all'armonizzazione di una scala sono diversi. Allora avrò quindi degli accordi maggiori sul primo e sul quarto grado. Avrò degli accordi minori sul secondo, sul terzo e sul sesto grado. Avrò un accordo di dominante, quindi di settima, sul quinto grado. Avrò un accordo diminuito, nello specifico un semi diminuito, sul settimo grado. Perché è utile capire come si generano gli accordi? Perché ci può essere utile in fase di accompagnamento ma anche in fase di suolo. E ci potrebbe essere utile appunto nella scelta delle scale che io faccio quando mi trovo magari a improvvisare su un accordo che fa parte di una tonalità di impianto e che è generata da quell'armonizzazione. Naturalmente questo discorso è riferito in una condizione in cui non ci sono dominanti secondari, non ci sono cambi di tonalità, non ci sono interscambi modali eccetera eccetera. Quindi in una condizione abbastanza standard e abbastanza basica, elementare, però comunque molto frequente nell'analisi di un brano e comunque molto presente. Facciamo quindi l'esempio, cancellando un po' la lavagna, di un'armonizzazione, di una progressione armonica dove poi praticamente andrò a inserire delle scale da utilizzare su quel tipo di accordo una volta identificato l'accordo. Ad esempio, primo accordo la minore settima, secondo accordo re minore settima, terzo accordo sol settima, quarto accordo do maggiore settima, quinto accordo fa maggiore settima. In realtà questo presenta l'alterazione come 10 su 11. Ok, quindi abbiamo questa serie di accordi che è una progressione armonica che può capitare spesso in una canzone, naturalmente già da una prima analisi capiamo che siamo in tonalità di do. Ok? Ma ci arriviamo per step. Come lo capisco? Il la minore settima è il sesto grado appunto di do. Il re minore settima è il secondo. L'accordo di dominante è quello che ci fa suonare il campanello d'allarme perché è il quinto grado. Dal quinto scendiamo subito al primo. C'è questa cadenza praticamente. Questo è veramente il nostro campanello d'allarme. Quando in un'armonizzazione di accordi, in una progressione di accordi vediamo che c'è un quinto grado e poi un primo praticamente già riusciamo a identificare in maniera funzionale su quale centro tonale ci troviamo. Ok? Quindi attenzione sempre agli accordi di settima, salvo appunto non siano delle dominanti secondarie, ma quello è un altro tipo di discorso. E per concludere, visto che siamo praticamente in tonalità di do, il fa maggiore questo diventa un quarto grado. A questo punto, una volta che ho identificato i gradi della scala e i gradi, diciamo la progressione armonica, posso abbinare utilizzando i modi praticamente delle scade per ogni singolo accordo. Sesto modo, modo e olio. Ok? Quindi scala minore naturale. Modo dorico sul secondo, sull'accordo di dominante il misolidio, modo ionico sul primo e modo lidio sul quarto. Naturalmente queste sono le prime soluzioni di riferimento che io posso utilizzare. Poi ci sono le sostituzioni, scale che comunque sia possono essere appunto cambiate e tante altre soluzioni. Però questa è, diciamo, la prima forma standard in cui io posso applicare i modi praticamente a questa progressione armonica. Una volta che ho individuato appunto, grazie al settimo grado e poi grazie a questa cadenza ho individuato il centro tonale, ho quindi riconosciuto quali sono i gradi, come sono posizionati all'interno della progressione e all'interno dell'armonizzazione della scala. Fatto questo praticamente posso poi scegliere quale tipo di scala utilizzare, naturalmente quale tipo di modo utilizzare, in base proprio al posizionamento dell'accordo rispetto all'armonizzazione. Se noi volessimo completare praticamente l'armonizzazione abbiamo, manca il si minore settima bemolle quinta, l'accordo semi diminuito, secondo manca il terzo che è il mi minore settima e poi li abbiamo detti tutti, mancherebbero due accordi che fanno parte un po' dell'armonizzazione. Però ne abbiamo già scritti cinque, ne mancavano solo due, ma si possono comunque integrare, tanto questo è un esempio. Anzi, provate eventualmente a farlo in tante altre tonalità. Qual è la caratteristica che li accomuna? Che cambiando comunque le sigle degli accordi, comunque cambiando la tonalità e cambiando l'accordo in sé per sé, diciamo l'estensione dell'accordo rimane sempre la stessa e sempre uguale. Quindi avrò sempre sul sesto grado un accordo minore settima, sul secondo un minore settimo, sul quinto un accordo di dominante, sul primo e sul quarto due accordi maggiori, sul terzo che è quello che manca avrò un accordo sempre minore settima e sul settima avrò un accordo semiduminito. Bene, spero che la lezione sia stata comprensibile, chiara. Ringrazio ancora questo fantastico arcobaleno, questa classe di propria leutica, questa lavagna che fa molto vintage ma che mi è piaciuta molto utilizzare. Se ci sono dubbi, domande o curiosità su questo tipo di lezione, su come appunto si posizionano gli accordi, su quello che è l'analisi armonica e su come possiamo implementarla sul nostro modo di suonare, non vi resta che commentare il video, devo fare in modo di rispondervi nel minor tempo possibile, possiamo anche divertirci nei commenti a fare degli esempi, prendendo in analisi dei brani famosi e vedere che tipo di progressioni armoniche ci sono e come magari queste progressioni possono far riferimento appunto ad un centro tonale, una tonalità e un'armonizzazione. Quindi di conseguenza che tipo di scale utilizzare. Bene ragazzi, non mi resta che salutarvi, ci vediamo alla prossima con una nuova lezione di Basso in Pill, una nuova recensione, una nuova intervista e tutto quello che fa parte della nostra Base Family. Ciao ragazzi e Base Your Life!